ciao bambini bentornati oggi dopo tanto tempo siamo finalmente tornati a scuola come certamente saprete quest'anno sarà un po' particolare perché dobbiamo seguire alcune semplici ma importantissime regole per tenere lontano il coronavirus vediamole insieme indossa la mascherina ogni volta che non sei sicuro di poter mantenere la distanza di un metro dagli altri insegnanti e compagni di classe lava spesso le mani con il sapone o disinfettale con il gel soprattutto se è toccato oggetti di uso comune quando sei nei corridoi rispetta la distanza di un metro con le altre persone e indossa sempre la mascherina indossare la mascherina e stare lontani è molto importante solo così infatti possiamo evitare che il virus si diffonda mantenere la distanza dunque è molto importante per questo motivo i banchi sono stati distanziati di un metro l'uno dall'altro in aula si entra sempre con la mascherina e mantenendo sempre la distanza di un metro l'uno dall'altro una volta entrato siediti subito al tuo banco mi raccomando bambini ricordatevi sempre queste regole sono sicura che le rispetterete tutte e che sarete bravissimi non mi resta che voglio augurarvi buon primo giorno di scuola ciao